Stamattina sono venuto a svegliare una persona San Francesco, dormimo? Dai eh, forza, giù dalle brande, San Francesco Quando passate a Sisi svegliate sempre San Francesco se dorme Guardate ma zinga Vai, ma zinga Ce l'ho il cappellino Mamma, sei brutto anche sul cross Sei brutto anche sul cross Manna, ma tu pensi di essere un motociclista e non seguirei neanche la bicicletta? Una giornata diversa Eccoli Se ne prendevo io Mi ammazzavo al primo salto Quindi oggi guardiamo Mariano già fermo perché deve montare le rotine Adesso ci montiamo via le rotine Mettiamo le rotine vai Vai sì Ti mettiamo le rotine è come il super tenere vai Eccoli, stanno per arrivare Gamba di legno Mauro Mandaic E Rotelline Mariano Eccoli Guarda c'ha le rotine Allora, secondo voi Questa calda Secondo voi Manna mia papà Mi ha dato la morte Dove va Dove va, dove va Ragazzi la banana È solo fruta Secondo voi è una bella storia Almeno fa Banana stringi Io tra i boschi Non sono andato Sono a Fabriano a fare un giretto E forse mi bevo anche una birretta Dunque molto bello Fabriano Dunque volevo ringraziare Amico perché veramente mi ha lasciato il portafoglio Mariano Eccolo Abbiamo pagato l'aperitivo Sto qua Angela Grazie E anche i regali abbiamo fatto Grazie Mari Grazie mille Tu stai a girare con la moto Dai Oh no Oh fanculo Sono tornato Sei contento Oh è scia Fammi incazzare Guarda che ti ho comprato questa sera cena Super cena Salsiccia Coppa Puntarelle Fegatelli E lui mangia Lui mangia Sei contento? Era me che portava un po' di figa Ma ma Ti sei proprio un puntato con sta cosa Eh beh Ti sei un puntato È la me cosa Me che le bianche Me che le bistecche Ma davvero? È certo Perché? Perché è buona Che? Ah vattene Che è buona Mannaggia Oh va via Dimmi che è buona Chi è buona? Una sorca E poi? E poi sta cazzo E dopo? Oh ma insomma è possibile Sei riconosciuto? Dimmi poi dopo che Ma sei tanto bello a me Sei venuto a rompicoglione Dimmi dopo e poi? E poi sta cazzo E dopo? E dopo? E dopo? Dimmi solo e dopo E dopo? E dopo che? E dove andrà? L'affanculo Vuota tutto Arbetali cosa fa perché ma come mai cosa fa attenzione il fuochista si sta per sfogliare accende il fuoco eccolo qua accende il fuoco eccolo qua solo lui è capace al mondo ad accendere il fuoco è uno che si buona fa e io niente metteci queste metteci ma perché fai così ma perché auguri si accende così si è soddisfatto o no ma io non è che ciò da qui ho imparato io ho imparato a fa che? a fa tutto che facevi quando eri come me? anche l'elettricista facevi inviando la luce l'elettricista poi che hai fatto? che hai fatto? che hai fatto no? che hai fatto? vattene! butti c'è questo metti c'è questo rosè il telefono lo dico io perché tu non cazzo lo dico io la piazza ah ma me ma che ce la fa col telefono? eh? eh davvero guardate che bei sassolini che fa la mamma che belli uno due amore in diverse lingue tre che belle creazioni e ragazzi quando c'è l'amore si può scrivere su un sasso in tante lingue in qualsiasi maniera ma rimane dentro il sentimento c'è bisogno di espandere amore c'è bisogno d'amore di espandere amore ma che hanno annullato il gol? taglio venci era fuori gioco no schiappa questo e portalo a casa guarda quel testo di cazzo dei cani è starato qui ma perché? che cane è quello? questo è un cane stronzo e poi? questo è un disgraziato infine la mignola oh vieni ma via un posto nè lascia la porta aperta c'è scala da di qua scosta tutto l'altro dei cani viene ora chiamalo chiamalo vieni chiamalo dove l'ha trompato c'è lato il cane pure raga voi pensate mi dite senti mi dite gli devi essere dolci con noi ma lui è sempre incazzato raga lui si incazza anche se sta felpa ritorna da questo posto qua è incazzato raga che devo fare? non è che è così è rapporto nostro rapporto nostro ah vai via strozzo dei cani si è ancora confortante alla lunghello e leve di coglioni porca madonna no ah è un testo di cazzo è un testo di cazzo è un testo di cazzo che cazzo di cazzo? sto testo di cazzo? controlli di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di biciclettene Matcha due mini moi impressa e guida viola costo di oo avuto un problema con youtube che stiamo risolvendo chiedo scusa a tutti i coccodrilli intanto se comunque voi iscrivetevi perché questa la mettiamo la ricetta e poi ci sono tante tante nuove cose cioè ragazzi questi sapori sono unici 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 sti sapori guardate che spettacolo arrosto alla grande torta al testo alla grande fausto vienovino alla grande sta a fauno che temorato no che temorato no che vuoi mangiare dentro la torta provate la coppa non so come come la chiamate voi è clamorosa levate levate io non lo mangiare non lo mangiare e tu fai dammelo no